Benvenuti a tutti ragazzi in queste finali della seconda edizione di Atleta League di Fortnite Quest'oggi si scrive la storia Io direi di partire subito con il primissimo Il primissimo game che è appena arrivato Ci siamo, ci siamo, ci siamo Io già sono molti naip Sì Uno contro uno, attenzione Uno contro uno 108 Attenzione Joy nel box e ce la fa Risi si porta a casa questo primo game Allora intanto sta partendo il secondo game Si stanno droppando A sto giro vediamo questo Raven Ok, uno contro uno Hit preso da parte di Raven Raven cerca di farlo cadere Vediamo lo droppa dal like Niente pompato non riesce a prenderlo Vediamo il signor Oh bellissetto Showti, showti, showti Laserata Raven che guadite E se la forza casa Mamma mia Bravissimo, showti Bravissimo Raven Se la sta giocando molto bene Terzo game Quindi giro di boa Vediamo un pochetto qua Come se la caveranno i nostri I nostri player Uno contro uno Risi che cerca di far droppare Il signor Chi è che era? Il signor Ema Ema chiude fuori Cerca lo spray Doppio 35 27 white Purtroppo Renzi ci lascia 20 di vita Se fa Deve far la giocata della vita Il colpo quello che ti toglie 150 con lo spazio Ema si sale Scende e cade Attenzione Oh bellissima pompata da parte di Ema Che si porta a casa Questo Endgame Ma soprattutto terzo game Con 5 kill Adesso ci buttiamo Quarto Quindi penultimo game Di questa finalissima Alla montagna Bellissima hit Bellissima hit Da parte di Ema Uno contro uno Ema se la porta a casa Due win per lui Mamma mia Su 4 game se ne vinti due Siamo alla fine Siamo all'ultimo game Vedremo chi C'è proprio il rettilineo È la volata finale Il gioco finale Come so dire no Uno contro uno Uno contro uno Contro Rezi Eclat 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 Chissà Appunto Vincere questa partita Vediamo un po' Spawno del ground 22 Bello 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 22 Dall'AIG Cerca magari di Dropparsi un pochetto più giù Il signor Clep Cerca la hit Col pompa Cerca di rompere le build avversarie Il signor Rezi Costretto Alla difesa L'Edit Prova che il pompa Vallo hit Clep Va giù Si droppa Niente niente Se qua è pericoloso Che sa puge Clep Vendrà appunto Kill la sesta kill 108 Clep lo hit E se la porta a casa GG a Rezi E GG a signor Clep Ragazzi Noi vi diamo un mega abbraccione A tra poco Non scappate Non scappate Ciao 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 Grazie per averci seguito Se ti è piaciuto quello che hai visto Lascia un commento O un mi piace E iscriviti al nostro canale YouTube Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social Facebook Instagram E Twitch I link li trovi nella descrizione qui sotto Ciao